Buonasera, mi scuso per la voce che come sentite è una voce da oltretomba, goffa e chioccia e sarebbe più adatta per commentare quelle trasmissioni televisive in cui si vanno nella tomba di Cheope o imposti così, è una voce da oltretomba però scusatemi ma non posso farci niente perché mi è capitata e me la tengo e in questo caso purtroppo sono costretto a proporla a voi. Dunque siamo qui in due perché da due punti di vista diversi quello dello storico dell'arte e quello dell'architetto, restauratore di monumenti antichi, medievali in questo caso e soprattutto diciamo conoscitore e anche storico delle tecnologie del costruire a Genova in modo particolare ci siamo fatti simpatia, ci siamo fatti simpatia e da alcuni anni abbiamo seguito un percorso in realtà è stato Claudio colui che mi ha tirato dentro quando ha iniziato il suo impegno in cattedrale io avevo studiato la cattedrale e lui ha pensato, una cosa piuttosto logica, di convocarmi per parlare per vedere, di fare cose assieme, per studiare assieme le cose che si erano ritrovate e questa cosa che non si può definire un progetto, oggi si parla di progetto per tutte le cose anche le più inverosimili, sono scaturiti in tutta una serie di pubblicazioni e perfino proprio sull'argomento del quale oggi parleremo un corso universitario della scuola di specializzazione che si, cominceremo l'otto, che avrà come sede la cattedrale che avrà come luogo, come aula, il battistero gentilmente concesso dal capitolo della cattedrale nella quale i studenti del corso di laurea in storia dell'arte in conservazione dei beni culturali ci menteranno con la cattedrale non soltanto in termini storici o in termini indiretti ma con la cattedrale come manufatto concreto nella sua fisicità, nella sua concretezza ecco, andremo sui ponteggi e gli studenti guarderanno da vicino queste cose e cercheranno di trarne profitto costruire a Genova nel Medioevo incominciamo di solito si traccia nelle conferenze ordinate si traccia prima la regola e poi si trovano le eccezioni noi abbiamo pensato di fare il contrario di mettere in luce in primo luogo l'eccezione e poi di trovare la regola e di affrontare questa regola dai nostri due rispettivi punti di vista ecco, questa è un po' la struttura della conversazione della conversazione di stasera questa è la facciata della cattedrale nostra di San Lorenzo che sta qua vicino e che è un edificio singolare per molti aspetti strano e stravagante per molti aspetti che ha avuto sempre un ruolo straordinariamente centrale nella vita della città in età medievale in età moderna che è stato il simbolo la cui costruzione è stato il simbolo della rinascita della città alla fine dell'undicesimo secolo in epoca di crociata quindi la cattedrale cioè la città la città cioè la cattedrale bene uno degli aspetti eccezionali è la sua facciata o meglio la parte bassa della sua facciata che è appunto l'eccezione alla regola che noi cercheremo della quale noi cercheremo di parlare oggi perché è un'eccezione? perché è l'unico edificio che esista in tutta la regione costruito in un certo modo in un certo modo che non è quello che poi prenderà campo a Genova quando incominciando dalla fine dell'undicesimo secolo i magistri antelami prenderanno a dare uniformità al costruire genovese nel campo ad esempio dell'architettura e dell'edilizia sacra ma anche nel campo dell'architettura e dell'edilizia profana residenziale perché anche in quel campo e soprattutto in quel campo sapete le chiese si costruiscono una tantum ma le case una sempre anzi sempre e basta per cui cos'è l'eccezione? ecco questo è un edificio costruito alla francese costruito secondo le regole di quello che si chiamava nel medioevo opus francigenum cioè modo di costruire la francese tecnica tecnologia la francese ecco non stile gotico stile gotico è un termine che è stato inventato da Vasari a metà del cinquecento come spregiativo nel medioevo nessuno sapeva di essere gotico nel medioevo i goti erano i goti quelli che avevano distrutto l'impero romano ecco invece si parlava di questo modo ricostruire innovativo che prende campo dalla metà del dodicesimo secolo 1140 1145 a un luogo di nascita l'abbazia di Saint-Denis vicino a Parigi un padre se vogliamo l'abbate Sujet un personaggio di grandissimo di grandissimo livello nell'Europa nella Francia nella Francia capetingia che presiede all'abbazia nella quale allegra di Francia vengono sepolti in quel luogo si fa sulla base del suo impulso diretto delle sue intenzioni della sua volontà un salto di qualità nel modo di costruire che sarà quello che noi volgarmente chiamiamo l'arte gotica l'arte gotica nel campo dell'architettura ma con questo nuovo modo del costruire si avranno anche dei mutamenti si indurranno degli immediati mutamenti anche in altri campi ad esempio nella scultura nella scultura architettonica che intreccerà con l'architettura nuovi modi nuove relazioni e alla fine nell'arco di diciamo nemmeno 50 anni si trasformerà moltissimo partiremo intorno al 1140 da figure che sono ancora legate strettamente all'architettura per arrivare al 1240 con figure che sono degli uomini e delle donne che si trovano vicino davanti presso in contesti architettonici e che hanno con noi che le guardiamo una parentela diretta per come sono per come sono fatte per come esprimono per come si esprimono per come gesticolano ora senza farla troppo lunga questa parte bassa della facciata è il risultato dell'impegno di una piccola bottega governata da un maestro da un magister maître un francese nato artisticamente architettonicamente nel nord della Francia a Chartres in questi posti qua che viene chiamato per ragioni che ancora storicamente non siamo in grado di precisare di puntualizzare qui a Genova viene chiamato e qui lavora come lui sa fare per costruire un edificio diverso da quasi tutti quelli che nell'Italia del nord intorno al 1215 1225 si vanno che è l'arco di tempo in cui si costruisce questa parte della facciata si vengono costruendo ce ne sono degli altri un altro è Sant'Andrea di Vercelli anche a Sant'Andrea di Vercelli si fa la stessa cosa si costruisce un edificio nuovo perché ci sono delle attese e si vuole dare un segno di innovazione non potremo andare avanti pertanto ma noi non stiamo parlando della cattedrale ma di tecniche costruttive questo maestro ha dei modelli modelli non soltanto per le sculture non soltanto per gli elementi architettonici ma anche per la tecnica della pietra del tagliare la pietra e del comporre io non vado avanti su questo argomento perché ne parlerà poi il mio collega ecco guardate quello a destra sono le pagine del tacquino di Villard de Honcourt che era un signore nato vicino a Damien e che fece intorno al 1215 una sorta di mezzo giro d'Europa che lo portò da Amien dove era nato fino a Lausanna da Lausanna in Ungheria e ritorno guardando e mettendo in un tacquino che esiste ancora la Biblioteca Nationale de France tutta una serie di appunti su tutti gli aspetti del costruire e degli annessi e connessi al costruire lo scolpire il decorare decorare la pietra il decorare il legno tutto questo noi dobbiamo immaginare qui a Genova un gruppetto di francesi che sono venuti e che insegnano un modo di costruire che in quel momento nel nord Italia nessuno conosce se non a Vercelli perché lì c'è un caso particolare di un comitete privato che aveva passato la sua vita in Francia e che quindi poi aveva deciso morendo siccome era un cardinale non poteva avere figli di lasciare alla sua città una gigantesca chiesa un gigantesco ospedale e li fa fare come a lui piaceva secondo l'opus francigenum ecco a Genova non sappiamo bene perché si sia fatto questo ma si è fatto quindi il caso è veramente un caso particolare qual è invece la regola la regola è quella dei magistri antelami che arrivano a Genova che vuol dire i maestri della valle d'Intelvi la valle d'Intelvi è una valle una valle insomma è più una collina piuttosto erto con un avvallamento centrale che si trova tra il lago di Como e il lago di Lugano da lì dalla fine dell'undicesimo secolo arrivano maestranze che costruiscono e che si diffondono in tutto il nord Italia e anche in parte del centro Italia in quasi tutte le città del centro nord Italia si diffondono queste maestranze di lombardi cumani comaschi era la diocesi di Como quindi venivano chiamati tutti così e si insediano nelle città si insediano nelle città formano delle corporazioni e stanno lì come topi nel formaggio prendendo in mano il costruire nelle singole città del nord Italia a volte esercitando come a Genova una privativa assoluta solo loro possono costruire in altri luoghi con qualche apertura ma insomma l'importanza che hanno per Genova è un'importanza decisiva un'importanza decisiva perché il fatto che siano questi ad arrivare e a operare a Genova dalla fine dell'undicesimo secolo predicano e diciamo determinano le sorti del costruire a Genova a Genova gli edifici sacri gli edifici profani verranno costruiti da loro e solo da loro determineranno indirettamente come vedremo anche le sorti della scultura perché gli scultori non facevano parte della corporazione dei magistri antelami e non avevano diritto di formarne una erano talmente potenti a Genova che potevano imporre ciò che volevano a Genova costruiamo soltanto noi gli scultori se vogliono vengono e noi li paghiamo a gettone li chiamiamo noi capi maestro capi bottega antelamici li paghiamo e loro fanno ma non possono formare una loro corporazione soggiacciono alla egemonia possiamo dire così antelamica ecco adesso guardiamo i manufatti siamo partiti dall'eccezione e adesso vediamo un attimo come si è formata questa regola invece dei magistri antelami e dal disordine della tessitura muraria che qui vedete nel Sant'Agostino della Cella o se volete nelle fondazioni medievali alto medievali della cattedrale di San Lorenzo perché poi concluderemo comunque con San Lorenzo si arriva ad una regola del costruire il muro una regola che parte da una linea di terra e da questa linea di terra ci si erge verticalmente sempre in forma parallela mantenendo questo parallelismo e di conseguenza avendo sempre in bolla il piano costruttivo se volete è appunto una modifica di quello che era l'opus quadratum romano abbinato però all'altra forma di costruire romana che era l'opus listatum già dalla cava si cercava di ricavare dei blocchi che fossero mediamente squadrati per dei motivi molto semplici prima di tutto per non fare sfridi nell'ambito della cava e sfruttare al massimo la stessa e per mandare in cantiere un qualche cosa che avesse già una conformazione più facilmente affrontabile e più facilmente lavorabile da parte dei lapicidi che erano addetti a questa operazione qual'era questa regola di un pezzo di pietra qualunque in questo caso ne vediamo uno mediamente squadrato si ricavava si ricavava un listello che è quello che voi vedete che è quello che cerco di evidenziarvi col cursore che si ricavava con uno scalpello a taglio piatto aiutandosi con una riga che veniva messa in bolla con un archipendolo e poi lo vedremo successivamente da questa si passava a un altro listello eseguito nella stessa maniera in forma ortogonale da questi due punti di riferimento attraverso delle righe parallele come vedete nelle figure sottostanti arrivavamo alla squadratura dell'intero parallelepipedo e poi una volta che il parallelepipedo era ben eseguito da questo si potevano ricavare tutte le altre forme come per esempio una colonna o i rocchi dalla colonna stessa cioè i vari elementi che sovrapposti formano il fusto della colonna ma così pure altre forme le vedremo meglio dopo proprio parlando del fronte della cattedrale in questa maniera a Genova si vanno formando le chiese di Santo Stefano la molto più celebre Santa Maria di Castello e di qui vediamo un particolare originale la parte più consunta e di restauro le parti più chiamiamole lisce e anche l'abside della cattedrale di San Lorenzo che sono opera proprio dei nostri magistri antelemi dove la caratteristica di questa tessitura muraria è proprio il parallelismo dei vari corsi dei vari registri dove addirittura è difficile in alcuni casi vedere proprio la malta d'allettamento dove la giuntura è talmente perfetta che la malta d'allettamento in alcuni casi sparisce abbiamo detto che questi magistri antelemi vengono dalla valle d'Intelvi quindi dalla regione di Como un monumento documento che testimonia il primo momento proprio in cui questi personaggi arrivano a Genova è questo blocchetto che si trova nel museo di Sant'Agostino vedete è uno stipite di un portale di un portale della cattedrale perché è stato trovato lì della nostra cattedrale però non manca da nessuna parte in nessuno dei portali romanici che ci sono i due portali del lato nord del lato sud quello di San Gottardo e quello di San Giovanni questo pezzo manca era un altro portale ora questo questo frammento di stipite di portale che ha dei racemi fioriti da una parte e questo goffo leoncino lì mezzo arrampicato dall'altra è realizzato non nel marmo che noi siamo abituati a vedere a Genova il marmo di Carrara il marmo bianco di Carrara ma in un marmo che viene da Como da Musso ora voi capite che se qui a Genova c'è un pezzo di marmo di Musso cioè di Como vuol dire che qualcuno ce l'ha portato siamo giusto alla fine dell'undicesimo secolo evidentemente evidentemente questo pezzo di marmo è più o meno così poi scolpito è stato portato qui da queste maestranze perché l'hanno fatto nessuno lo sa dire noi di questi magistri l'antellama conosciamo parecchio conosciamo sappiamo che erano una corporazione sappiamo che erano degli impresari soprattutto erano degli impresari il magister Antellami è l'impresario del cantiere l'impresario della bottega a volte l'impresario della cava come poi si dirà il capo della cava gestivano tutta la filiera del costruire dall'inizio alla fine in questo momento iniziale si erano portati dei pezzi perché forse li avevano chiamati in cattedrale dicendo ci sarà anche da lavorare per decorare questo edificio qui siamo a Santa Maria di Castello a Santa Maria di Castello c'è una testimonianza importante gli archivi del comune e l'archivio di stato hanno moltissimi documenti scritti che sono l'esito degli affari dei rapporti economici che questi personaggi intrecciavano con i loro committenti pubblici privati sacri e profani non c'è nessun documento scritto cartaceo che ci parli del loro intervento in Santa Maria di Castello però abbiamo qualcosa di meglio su uno di questi capitelli un capitello romano di reimpiego come sono quasi tutti quelli della navata di Santa Maria di Castello lì in quella zona c'è scritto Dominicus Ego Dominicus Magister Antelami feci o copus cioè una scritta che è una vera e propria firma io Domenico Magister Antelami feci quest'opera ora uno dice cosa ha fatto? avrà fatto il capitello visto che l'ha firmato il capitello manco per niente il capitello è romano avrà fatto la colonna manco per niente la colonna è romana cosa ha fatto allora questo? questo si è firmato in questo modo non perché pensasse di essere un artista ma perché aveva compiuto in modo grandioso il suo lavoro di impresario aveva portato sulla parte più alta di Genova del centro antico di Genova colonne enormi altissime pesantissime senza romperle aveva portato su capitelli grandissimi li aveva disposti con gusto e aveva fatto tutto questo realizzando uno spazio grandioso quindi si si metteva in evidenza un suo savoir faire che era un savoir faire di tipo ingegneresco no? oppure noi diremmo oggi logistico no? quindi non saper fare strettamente artistico anzi in questo caso l'aspetto della come dire dell'orgoglio dell'opera ben fatta sotto il profilo ingegneresco architettonico e dell'uso dell'impiego dei materiali è quasi la sfida no? nei confronti di questi pezzi giganteschi antichi presi chissà dove dalle rovine di Genova Romana oppure da Luni e portate qua per mare poi reimpiegate nei nostri cantieri non lo sappiamo però di fatto accade questo si costruisce a castello questa gran si ricostruisce una delle chiese più antiche di Genova e la si ricostruisce come una grande basilica a colonnati reimpiegandovi pezzi romani chi è il diciamo regista questo Domenico Magister Antelami che per orgoglio si firma su questo capitello quindi la firma in questo caso non è la firma di colui che ha fatto un'opera d'arte ma qualcosa di diverso no? una manifestazione di orgoglio del saper fare guardate questi sono due dei capitelli sono uguali sono capitelli romani sono stati prima di essere messi su rilavorati riaggiustati per adeguarli alle colonne anche questo si faceva lì nel cantiere arrivavano i materiali e li si aggiustavano adeguavano mancavano dei capitelli lì si facevano questo è il primo capitello entrando a sinistra è un capitello del dodicesimo secolo neoantico che ripropone nelle forme antiche ma in forme nuove e con questa aquiletta che come vedete non ha niente di romano antico evidentemente aveva chiamato a gettone uno scultore per fare questo capitello questo capitello doveva essere fatto da uno scultore non da uno scalpellino non da uno che come dire lavorava il marmo semplicemente così nei suoi aspetti diciamo costruttivi in questo caso c'era bisogno di uno scultore questo domenico il capo cantiere lo chiama a gettone e gli fa fare questo questo capitello qualcosa del genere accade anche nella porta dei vacca dove noi abbiamo porta di santa fede dove noi abbiamo questa grande struttura architettonica e un epigrafe nella quale ci sono ben quattro nomi ben quattro firme noi diremmo un po' impropriamente ego guiscardus magister et ioannes bonus cortese et ioannes de castro fecimus o copus cioè noi guiscardo maestro guiscardo maestro giovanni bono cortese e maestro giovanni di castello facemmo quest'opera siamo nel 1155 si sta costruendo la cinta della città per difenderla dal barbarossa più o meno e questi personaggi ancora non sono artisti sono i responsabili del cantieri che hanno diciamo lavorato in sinergia alla realizzazione di questa di quest'opera anche in questo caso hanno avuto come nell'altra porta la porta di Sant'Andrea la porta soprana e diversamente da quello che succedeva nella porta aurea i capitelli vengono realizzati affidati a scultori specializzati i capitelli di porta dei vacca sono bellissimi bellissimi fatti site specific si direbbe oggi chi fa finta di sapere l'inglese e sono lavorati perfettamente nelle due parti nei due lati che si vedono in modo diciamo più generico nelle parti destinate a essere coperte di giorno dalle porte che si aprono perché perché tutto quello che si finisce e si fa si paga lo scultore lo paghi a giornata quindi se tu gli fai lavorare quattro lati e lui ci impiega sei giorni lo devi pagare per sei giorni sei magari saranno anche dieci se invece gli fai lavorare due lati tutti perfettamente e gli altri due soltanto in parte abbozzati magari lo paghi per sette giorni uno dice è difficile pensare in questo modo in realtà come vi ho detto è una questione di stiamo parlando di lavoro la storia dell'arte è in primo luogo produzione di cose attività lavorativa questo l'arte lo è sempre stata lo è sempre stata per questo è sempre esistita l'arte va bene qui siamo ancora Santa Maria di Castello ma andiamo vi faccio vedere un altro caso interessante siamo in un luogo che non esiste più a San Tommaso un promontorio più o meno nella zona del palazzo del principe lì c'era un promontorio che andava a finire in mare sopra questo già da epoca tardoantica già dal settimo secolo c'era un monastero cioè un monastero diventato nell'undicesimo secolo benedettino ricostruito a partire dal 1186 dai maestri Antellami qui lo sappiamo perché ci sono i documenti e ci dice che per realizzare questo monastero per rifarlo ex novo nel 1186 lavoravano due botteghe una tutte e due di magistri Antellami Odo Euprando da una parte e Lorenzo dall'altro questi lavoravano due botteghe diverse ma erano costretti magari erano anche mezzi parenti venivano dallo stesso luogo ed erano costretti a lavorare assieme però si erano litigati allora che cosa fanno decidono di andare davanti alla magistratura corporativa io ve lo sto raccontando come se fosse una barzelletta ma il documento non è tanto diverso da come ve lo sto raccontando vanno davanti alla magistratura corporativa dalla magistratura della corporazione dei magistri Antellami e li presentano il problema e gli anziani della corporazione cosa decidono che gli uni non sei intromitant negli affari degli altri cioè fatevi ciascuno i fatti vostri ecco non rompetevi le corna a vicenda questo in sostanza un giudizio di buonsenso che però evidentemente mette tutto a posto perché i lavori vanno avanti ora queste due botteghe erano due botteghe di magistri Antellami che vi ho detto venivano dallo stesso luogo costruivano lo stesso modo facevano i muri nel modo che dice che poi adesso vi dirà Claudio Montagni però avevano delle abitudini di cantiere diversi per esempio gli uni nelle parti decorative nel portale gli uni lavoravano alla chiesa e facevano il portale della chiesa gli altri lì a due metri e cinquanta di distanza facevano il portale che è quello lì del chiostro tutti e due fatti allo stesso modo con l'arco acuto e con due colonnine solo che gli uni facevano le colonnine di un diametro più o meno così gli altri le facevano così perché perché tagliavano la pietra secondo certe proporzioni e certi formati e da sempre le facevano così gli altri le facevano in un modo un po' diverso e da sempre li facevano così e allora che cosa fanno nel momento in cui devono fare i capitelli devono i capitelli dei due portali ricorrono a degli scultori che non fanno parte della corporazione e che non fanno parte né dell'una né dell'altra bottega come vi ho detto e che cosa fanno si mettono d'accordo e gli dicono noi di capitelli te ne chiediamo quattro quanto ci fai quanto ci fai per uno bene te ne chiediamo quattro facci un po' di sconto cosa ce lo dice al museo di Sant'Agostino ci sono queste due coppie di capitelli che in quanto all'aspetto sono uguali ma in quanto alla pezzatura e alle proporzioni sono diverse e noi sappiamo perché ce lo dice il documento che due andavano da una parte da Oprando e Lorenzo e l'altra invece dall'altro voi capite qual è la logica che governa la logica una logica di mercato una logica di profitto una logica di questo genere lo stesso facevano con il chiostro di cui i capitelli esistono ecco utilizzavano degli scultori che normalmente facevano dell'altro soprattutto lavoravano in botteghe come quelle del Domenico di Santa Maria di Castello che diciamo trattavano pezzi da aggiustare da riconformare guardate qui questi capitelli che sono quelli del chiostro sono molto belli quelli che sono aniconici soltanto con elementi tratti dall'antichità queste elici questi foglioni ma guardate un po' questo aquilotto quell'aquilotto l'inbasso ridicolo bambinesco evidentemente che cosa accadeva il maestro lo scultore che lavorava qui era uno scultore che era abituato a fare un certo tipo di cose ma non era abituato a fare le figure perché tra chi lavorava il marmo per squadrare il blocco chi iniziava a intervenire sul blocco per cavare delle forme e chi faceva delle vere proprie figure c'erano diversi livelli di come dire di gloria professionale a Genova questo lascia molto spazio anche all'arrivo di scultori dall'esterno da Pisa un grande scultore pisano intorno al 1176 86 arriva e fa un gigantesco portale per il fianco sud della chiesa di San Siro nel pieno centro storico con due enormi leoni le colonne sono altissimi i capitelli che ci sono sono alti così sono enormi questo per un lavoro così grande viene chiamato da Pisa uno scultore che lavora a Genova come un pisano e che lascia dei modelli che subito dopo proprio gli scultori che lavoravano a San Tommaso riprendono perché questi leoncini schifiosini insomma sono bruttini sono figli di questi magnifici e grandiosi leoni del maestro Pisano addirittura siamo intorno al 1145 arrivano scultori francesi in Santa Maria delle Vigne nella facciata il portale era decorato con i quattro evangelisti e probabilmente al centro una Newsday ne resta uno soltanto è bellissimo ed è il fratello gemello di sculture che si trovano nel portale est della cattedrale di Chartres in quello che si chiama il portale reale questo non è un angelo italiano non è un angelo pisano non è un angelo genovese è un angelo francese evidentemente questo scultore che è stato chiamato che si trovava a Genova per qualche ragione che noi non sappiamo viene chiamato a lavorare fa una cosa diversa da tutte le altre diversa da tutte le altre e lavora a Genova come lavorava a Chartres ecco questo è più grande questo bellissimo concio che si trova al museo di Ecesano raffinatissimo magnifico ecco lo stile in questo caso è come se fosse una firma una firma per chi sa leggere queste cose gli scultori lavoravano per le chiese ma anche per le case non solo lavoravano ad aggiustare i capitelli romani da rimettere da inserire da reimpiegare nelle logge delle case nobiliari che le botteghe antelamiche avevano costruito almeno in un caso che è questo e che quasi nessuno conosce lavoravano anche ed è qui l'architetto Giuliano Peirano che è colui che me l'ha segnalato e lo ringrazio pubblicamente qui siamo nel nel centro storico in un sulla ripa Maris in un grande magazzino qui c'è questo pilastro questo pilastro polistilo che è completamente coperto su tutte le colonnine e gli aggetti da decorazioni che sono le stesse che noi troviamo in San Lorenzo nel portale sud quello il portale di San Gottardo 1155 1160 ma non simili sono uguali lo scultore gli scultori degli scultori che erano stati chiamati lì uno a un certo punto viene chiamato da un privato non si sa bene di chi fosse quella casa purtroppo gli si dice non so perché perché è l'unico caso che esiste che io conosca a Genova si fa questo pilastro invece che far le solite colonne questo pilastro polistilo e si coprono tutte le sue parti con queste decorazioni con dei racemi che si intrecciano e che nascondono degli animali degli animali che escono con le teste e con i corpi è come se salissero qui sono tutte più o meno aquile nel portale di San Gottardo della cattedrale i soggetti sono molto più ricchi molto più vasti il materiale il materiale è marmo di Carrara quindi più costoso migliore più adatto alla scultura ecco però lo scultore è lo stesso no? o è lo stesso legato a quella bottega ecco questo è il portale di San Gottardo questi scultori che lavorano a Genova lavorano dagli anni settanta anche per l'esportazione dove nel basso Piemonte Gavi che è una propagine di Genova dove la Repubblica per controllare i passi appenninici trapianta maestranti trapianta genovesi gruppi di genovesi come si fa a Porto Venere Baluardo nell'estrema Liguria di Levante ci mettiamo dei genovesi perché quello è un luogo di interesse strategico Genova Gavi diciamo questo lavorare per l'esportazione arriva fino a Castelnuovo Scrivia ormai in pianura lo scultore invece che lavora a Gavi aveva lavorato a Genova nella chiesa dei Santi Cosme Damiano nella facciata della chiesa dei Santi Cosme Damiano e anche probabilmente in San Gottardo quindi c'è una come dire anche un successo di questa scultura che viene realizzata a Genova per arrivare poi siamo agli inizi del 200 a questa loggia di via San Bernardo dove per realizzare i capitelli di questa loggia di questa famiglia Bufferi una famiglia piuttosto importante viene chiamato un maestro legato alla bottega di Benedetto Antelami il più grande scultore dell'Italia del nord tra il 1160 e il 1210 15 che era stato chiamato a lavorare per la cattedrale si doveva fare la facciata della cattedrale che non era ancora stata fatta si convocò a Genova questo scultore chiamandolo da Parma e questo scultore approntò una serie di sculture che ancora oggi sono ecco questi leoni che sono bellissimi che sono sulla facciata della cattedrale quelli che vedete in basso ecco sono tratti da sarcofagi antichi sono delle copie medievali di sarcofagi antichi sono bellissimi raffinatissimi subito dopo aver fatto quelli i buferi evidentemente colpiti da ciò che si stava facendo in cattedrale lo chiamarono e gli fecero fare i due capitelli della loro loggia perché perché con leonesse leoni e leonesse io mi sono figurato per ragioni per celebrare delle nozze perché fai un leone mettendogli un attributo maschile evidentissimo e una leonessa mettendogli delle poppe gonfissime non saprei dirvi può essere una stupidaggine nessuno può accertarlo né certificarlo ma io mi sono figurato questa cosa le ultime le ultime scritture che avete visto sono realizzate con un marmo di carara purissimo quello che usiamo chiamare statuario e con questo introduco una questione di riconoscimento dei diversi lapidei che si vanno a lavorare nell'immagine vediamo un masso informe dove viene ricavata vengono ricavate i due punti di inizio che dicevamo prima ma che sono funzionali alla capacità dell'apicida di riconoscere i cosiddetti peli il linguaggio è quello dei cavatori apuani non c'entrano niente i peli che abbiamo sul corpo sono delle piccole diaclasi delle micro clasi e sono tre sono il verso il contro e il secondo il linguaggio è sempre quello dei cavatori apuani il verso è quello di stratificazione che sostanzialmente è quello principale il contro è quello ortogonale al primo il secondo è il cosiddetto pelo cattivo i primi due evidentemente sono i peli buoni pelo cattivo perché è diagonale a entrambi le direzioni dei peli precedenti e che sono i peli ce ne può essere più di uno secondo attenzione tre quattro cinque per lo stesso blocco sono quelli che determinano la frattura non voluta del blocco stesso ecco perché viene chiamato vengono chiamati peli cattivi in questo noi a Genova eravamo un attimino avvantaggiati quello che vedete è la cava la fotografia è del dicembre del 1900 è all'interno dell'archivio d'Andrade fa parte dell'archivio d'Andrade è la cava di Porta Soprana come avrete sicuramente riconosciuto perché dicevo prima avvantaggiati perché le cave con cui vengono costruiti tutti gli edifici sacri e civili che abbiamo visto finora sono costruiti con lapidei cavati quasi in loco o addirittura in loco come vedrete dalla foto successiva e avvantaggiati nel senso che essendo delle calcareniti cioè particolari formazioni stratigrafiche della serie del monte Antola che avevano svariate composizioni ne vedremo alcune tra un po' spesso i piani complanari ma soprattutto paralleli tra di loro erano esistenti già nella conformazione petrografica e geologica dei blocchi che venivano estratti quello di avere le cave in casa potremmo dire lo si conferma da questa foto di qualche anno più vecchia che non c'entra nulla col centro storico in quanto si tratta del tracciamento di via Fieschi quella che voi vedete vediamo se riesco a far a segnalarla col cursore questa è la chiesa di Santa Maria in via Lata per darvi immediatamente un orientamento e vedete che è tutta una cava tutto il versante di sinistra salendo via Fieschi lo vedete da questa fotografia è tutta una cava in quanto gli edifici che noi vediamo adesso lungo quel dorsale lì sono costruiti sulle cave dalle quali si ricavava il materiale per costruire gli edifici stessi con cosa venivano lavorati questi cammino un attimo perché il tempo sta stringendo con degli scalpelli a taglio liscio dentato talvolta curvo e con degli strumenti a percussione lanciata come tutte queste asce lisce a piccone rigate dentate eccetera ma tutte queste lavorazioni venivano regolate da elementi di misura quale gli archipendoli le squadre e i compassi con i raschietti andavamo a lisciare ulteriormente la superficie che era portata avanti poi con delle raspe di diverso tipo tra cui anche raspe da falegname quella che vedete in alto è proprio una raspa da falegname ancora oggi i bordi delle ardesie vengono terminati con questo tipo di raspa mentre in basso dell'immagine vedete un trapano a violino che così si chiama per lo strumento che lo faceva muovere che dava il moto rotatorio e attraverso il quale venivano eseguiti sì dei fori ma se vedete le immagini non so se riuscite a vedere il numero 6 e 7 e poi quello successivo in basso 9 e 10 vedete che dei fori tra loro diversamente orientati o paralleli come quelli della parte più bassa si riusciva poi attraverso uno scalpello a realizzare dei solchi dove avveniva la lavorazione ai piedi del cantiere a piedopera vedete da queste miniature medievali vedete i vari picca pietra che lavoravano proprio alla base del cantiere ecco nuovamente quest'altro e ancora questa è più tarda è della seconda metà del 300 vedete sempre il picca pietra che lavora insieme alle altre specializzazioni nel cantiere non c'erano solamente i muratori picca pietra c'erano per esempio i fabbri i quali forgiavano gli elementi metallici in ferro nella fattispecie per l'utilizzo del cantiere in quanto queste pietre non erano semplicemente appoggiate le una alle altre ma erano incastrate con delle grappe qui ne vediamo una serie di queste grappe e queste grappe erano fissate alla pietra attraverso l'operazione della piombatura quella che vi faccio vedere è un'opera cinquecentesca per la precisazione è una delle balaustrate della cupola di Carignano quindi opera dell'Alessi è firmata e datata ho scelto questa perché si tratta della parte sommitale di una balaustra dove è stato tolto il passamano e si vede l'incastro a croce non necessariamente era sempre a croce e un maschio mettendo sopra a questo appoggio al pilastrino di appoggio il pezzo di passamano mancante veniva poi piombato come? si faceva l'imbuto con due mezzi elementi lapidei dentro al quale erano stati scavati due mezzi tronchi di cono colato il piombo tolto l'imbuto che abbiamo visto rimaneva il residuo della colatura in piombo che veniva poi regolato con una scalpello e lasciava la superficie finita ma soprattutto bloccata in modo tale che l'insieme del costruttivo l'insieme strutturale rimanesse ben saldo nel restauro che abbiamo fatto della cupola alessiana abbiamo usato e queste sono le immagini che ve lo confermono esattamente gli stessi metodi che venivano usati sin dal periodo dei magistri antelami a Genova e qui torniamo all'eccezione con cui eravamo partiti l'eccezione in questo caso riguarda non solo le sagome che adesso vedremo che erano già utilizzate precedentemente ma anche come diceva Primo Clario a dei modelli voi capite che un insieme di questo genere fatto da più persone contemporaneamente non poteva i vari pezzi non potevano coincidere se non c'era un modello precedente col quale configurarsi ognuno di essi in modo tale che si potesse dire io faccio questo tu quello ma soprattutto non dovevano bisticciare come abbiamo sentito prima dovevano andare perfettamente d'accordo altrimenti ognuno di questi pezzi non si incastrava tra di loro soprattutto niente lo vediamo dopo prima dicevo esistevano le le seste no? queste seste potevano essere negative o positive e le potevamo affrontare nei due casi come per esempio le vediamo in maniera positiva nei cilindri della ghiera centrale del portale principale della cattedrale o in questi triangoli della ghiera più interna oppure in negativo come queste della ghiera più esterna ognuno di questi pezzi se voi lo guardate bene sembra avvitarsi su se stesso nella realtà sono sempre sono sempre piani paralleli tra di loro e il moto rotatorio è dato dalla scultura su uno o su due lati e questo come dicevo prima implica la necessità di un modello che precedentemente non esisteva ma che evidentemente si è sentito la necessità di questo anche perché ognuno di questi elementi doveva tra loro doveva immaschiarsi con quello successivo perché non sono elementi semplicemente giuntati con un po' di malta ma sono maschiati cioè c'è un incavo maschio e un incavo femmina che devono perfettamente aderire tra di loro per tenersi in piedi guardate quanti movimenti telurici quanti terremoti sono avvenuti in tutti questi secoli e i portali sono ancora e non hanno mai avuto problematiche strutturali di sorta oltre a questi aspetti che torniamo un attimo indietro vorrei sottolineare questo elemento non so se riuscite a vedere qui dove vi sto segnalando col cursore una ulteriore impiombatura e questo è il caso lo vedete illustrato in questo disegno di un muro non eseguito in maniera concia cioè fatto in tutto lo spessore con un concio di pietra ma dove evidentemente per motivi economici si è dovuto risparmiare sappiamo benissimo che la facciata ha avuto tanti stop di cantiere tanti blocchi di cantiere proprio per motivi economici lo si può leggere molto bene per esempio nelle indonartee c'è tutta questa serie di sovrapposizioni che si sono succedute nel tempo in questo caso sono lastre una lastronatura più sottile attorno ai 12 cm che viene bloccata con delle chiavi metalliche e poi con questa colatura di piombo viene fissata sappiamo peraltro dai restauri che furono fatti negli anni 70 60 70 dall'architetto Edoardo Mazzino questa è una fotografia che lui allega alle sue memorie che dal terzo marcapiano in su del campanile la tecnica era quella di affiancare al muro non più in pietra ma in mattone delle lastre della stessa lapide di questo argiloscisto che però veniva fissato nel campanile con delle grappe a t e concludo con non posso non concludere con quelli che sono stati i lapidei con cui è stata costruita la facciata prima Clario diceva che erano dei veri e propri manager del commercio sì questi antelami oltre a rinvigorire quelle che furono le cave apuane perché sono state loro che in un certo senso le hanno riscoperte e hanno ridato vita a queste cavi quelle lunensi e poi quelle più a sud delle alpi apuane dove hanno tratto parte dei bianchi delle alpi apuane perché sulla facciata non è presente un solo lapideo del comprensorio apuane ne esistono diversi almeno 5 tra questi oltre allo statuario oltre al bianco normale per esempio il cipollino che è utilizzato in grande quantità oltre a questo al marmo apuano abbiamo leoficalci verdi e rosse genovesi e spezzine cioè dalla Valpolcevera abbiamo le peridotiti verdi e nere provenienti dallo spezzino per l'esattezza dal passo della Mola in Val di Vara abbiamo il marmo rosa di La Spezia quasi certamente un filone che si incastra dalle alpi apuane all'interno della valle della Biassa dietro La Spezia con quello che era il rosso di Villa Colemandina i calcari marnosi che abbiamo visto prima più o meno grigi del territorio genovese e infine le torbiditi carbonatiche del ponente meglio note se volete col nome di nero pietra nera di promontorio che non esiste più come voi sapete perché il promontorio è stato distrutto quando furono tracciate via Milano e via Cantore la cava più importante era quella della valle di San Lazzaro nella parte più bassa del promontorio stesso chiudo con questa notazione avrete notato che il fronte principale della cattedrale è perfettamente lucido perfettamente lisciato e originariamente era anche lucido questa lucidatura che è ancora presente nella parte nascosta quella più riparata delle varie colonne di varie dimensioni di vario diametro era ottenuta col piombo ancora oggi si dice lucidatura piombo e non è un modo di dire si otteneva proprio con la polvere di piombo che veniva strofinata sulla superficie ormai lisciata e terminata prima del piombo con il guscio d'uovo sminuzzato e passato sulla superficie la mano finale era quella della polvere di piombo che determinava la lucidatura dello stesso potremmo andare avanti all'infinito ma mi dicono che abbiamo finito il nostro tempo quindi grazie a tutti grazie grazie